Il potenziale mosaicista è un potenziale artista, creatore, che poi può diventare scultore, pittore o chi per esso. A parte gli scherzi, quando lei si è iscritta a Ravenna, come ogni studente che è matricola, aveva davanti varie possibilità, vero? Non c'era proprio il pallino fisso della tessera? No, no, io appunto volevo fare l'accademia come decorazione, la mia idea era quella di fare decorazione. È stato appunto nell'anno in cui è stato previsto il mosaico che ho cambiato idea e ho fatto il mosaico.